In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete assaziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del fido dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e risultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Buongiorno, ben ritrovati per questo nostro appuntamento dell'ascolto della parola di Dio. Questa è la sesta domenica del tempo ordinario e in questa domenica mi piace parlare con voi di una cosa che è sicuramente importante per tutti, perché la voglia di sentirsi soddisfatti, felici, è qualcosa che ci accompagna per tutta la vita, dal primo istante fino al momento della nostra morte. È il motore dell'esistenza e per essa, alle volte, si è disposti a tutto. Allora, la meta è chiara e direi anche comune, la felicità. Non altrettanto lo sono però i mezzi per raggiungerla. Qualcuno propone il denaro, altri il successo, altri l'impegno sociale e così via. Non è però detto che tutti i mezzi conducano alla meta. Vanno però, vanno perciò vagliati, verificati e l'esperienza ci insegna che una ricetta largamente proposta, ampiamente reclamizzata, alle volte si chiude con un nulla. Anche il brano evangelico di oggi ci parla con le sue beatitudini di felicità. Ci propone una ricetta per la felicità e, in modo realistico, Gesù però non tace anche il rovescio della medaglia, sciorinando una serie di guai che vanno colti come segnali di pericolo, non come maledizioni da parte di Gesù. Le beatitudini le troviamo sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca. Quelle del Vangelo di Matteo, la sua versione è più lunga ed è più conosciuta. Matteo vi ha dato anche un rilievo molto più solenne, ponendole come incipit del suo discorso della montagna. Luca, invece, forse in modo meno solenne, ma non per questo meno espressiva, raccoglie le beatitudini in quello che per lui è il discorso della pianura. Perché? Perché il monte, per Luca, è il luogo della comunicazione con Dio, il luogo di preghiera, di intimità, non tanto un luogo di insegnamento. Quindi Luca, dopo essere arrestato e aver posto Gesù sul monte a pregare, dopo aver chiamato a sé i suoi dodici, scende dal monte e in questo luogo pianeggiante inizia il suo discorso. E questo inizio, in questo inizio, troviamo secondo me un dettaglio straordinario. Luca dice, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva. È guardando i suoi discepoli che Gesù vede i poveri, gli affamati, i sofferenti, i perseguitati. Non è una lezione che Gesù sta dando, piuttosto è la consapevolezza di ciascuno di noi che vuole offrirci. Cioè Gesù è colui che vede la mia povertà, la mia fame, la mia sofferenza, la mia ingiustizia. E proprio perché la vede può anche riempirla di significato e trasformarla in beatitudine. Infatti si è beati agli occhi di Dio non perché nella vita si è sfortunati, ma perché qualunque cosa ci è data da vivere, in qualunque situazione ci troviamo, c'è qualcuno che guarda la nostra vita e la ama così com'è lì dov'è. Ognuno di noi, in quanto discepolo, si porta addosso la doppia possibilità di un destino di beatitudine o di perdizione. Possiamo scegliere come vogliamo vivere la nostra vita, da amati o da autosufficienti. È ovvio, l'amore implica l'accettazione di un bisogno che ci abita, che riguarda tutti, ricchi e poveri, ed è il bisogno di essere amati. Se non accettiamo questo bisogno, vivremo la nostra vita o soffocandolo o cercando di riempirlo con ciò che amore non è. Mi viene una domanda. Come riuscire a vedere le beatitudini nei poveri, negli indigenti, nei sofferenti, nei perseguitati? O ancora meglio, in modo ancora più personale, come possiamo noi, nelle nostre povertà, nelle nostre sofferenze, riconoscerci beati? Cosa permette di leggere una di queste situazioni e di giudicarla come benedetta e non come una situazione di disgrazia o una maledizione? Forse perché essere povero è bello? Forse perché è una cosa buona a soffrire? Assolutamente no. Per un altro motivo. La ragione non è relativa alla condizione che si vive, ma sta nella bella notizia che è Dio che ha un debole per chi è povero. È Dio che raccoglie i poveri sofferenti dal fossato della loro vita. È perché è Dio che si prende cura di loro. Per comprendere bene questo vorrei ricordarvi che nella concezione della regalità, nell'antico vicino oriente, ma anche nella Bibbia, compito del re era garantire e promuovere la giustizia, che significava intervenire soprattutto in favore delle categorie più deboli, appunto il povero, l'orfano, la vedova, e prendere le loro parti. Così, nel momento in cui Dio instaura il suo regno e la sua giustizia, egli si mette dalla parte dei poveri, degli affamati, degli afflitti, dei perseguitati. Per questo, allora, queste categorie sono beate, perché il Signore ha deciso di intervenire portando a compimento le sue promesse e i primi destinatari sono proprio loro, i poveri, gli affamati, i perseguitati. L'insegnamento che possiamo ricavare in questa domenica è di cercare in Gesù la nostra vera ricchezza, facendo del denaro, del successo, un utile mezzo al limite, ma non la fonte prima della nostra felicità. La vera ricchezza, l'investimento sicuro che noi dobbiamo cercare di capitalizzare anche e soprattutto nelle situazioni difficili, è il Signore Gesù. E concludo con le parole di Papa Francesco, che nell'esortazione gaudete ed esoltate dice che per vivere le beatitudini è necessario tornare ad ascoltare Gesù con tutto l'amore e il rispetto che merita. permettiamogli di colpirci con le sue parole, di provocarci, lasciamoci richiamare a un tale e reale cambiamento di vita. Buona domenica. Grazie a tutti. grazie a tutti